Il naso in teflon Me lo fanno il naso in teflon? Aia! No vabbè, è un male porco, ti giuro. Colui che ha cocheinomene è una persona completamente diversa dall'altro cocheinomene che ha di cancro. Grazie, 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 grazie! Eh, sono passati, mi vaffanculo! Ma cos'hanno? Mamma mia! La forza proprio che ha la cocaina è proprio la facilità che hai, come posso dire, il tuo vestito, è già pronta per te, è l'abito tuo su misura. Ehi! Scusate, mi stavo forte, ti ho fatto apposta, faccia di cazzo! All'affanculo! La bamba la faccio, ma voglio anche due troi, voglio un mega hotel, voglio un ristorante della Madonna, un disco super, un tavolo, un privé, vaffanculo! Vaffanculo! Poi dopo voglio la bamba con due troie, poi voglio la bamba di una troia, poi voglio solo la bamba, poi non so più neanche come fare verso la bamba! E sono nella merda!